Salve a tutti, stiamo parlando del cosiddetto uranio impoverito, vedete due seggiole vuote perché siamo in attesa di due ospiti che stanno per raggiungerci, sono leggermente in ritardo. Io vorrei ora però indirizzare la discussione su un fatto importante che è uscito in questi ultimi giorni ed è stata la certificazione, dopo aver riesumato il cadavere di un giovane militare francese ucciso, della contaminazione da uranio, è la prima volta che viene certificata. Prego la regia di mandare un brevissimo filmato che abbiamo fatto su questo argomento. Abbiamo ritrovato dei proiettili ancora inesplosi e abbiamo scoperto che contenevano uranio impoverito, inoltre siamo riusciti a determinare che questo uranio impoverito non era di origine naturale, dunque non conteneva solo uranio 238 e 235, ma conteneva anche dell'uranio 236. Sembra che parte delle granate non sia stata fabbricata con l'uranio, ma con scorie nucleari. Si trattava quindi di un tipo di uranio ancora più tossico rispetto ad un uranio impoverito di origine naturale, già tossico di per sé. Le autorità militari sapevano, sapevano già ai tempi dell'invasione del Kuwait. L'uranio ha lasciato per la prima volta la sua firma nelle ossa e nelle viscere di un militare francese. Si tratta del primo militare francese contaminato ufficialmente. Ma i misteri non mancano. La riesumazione e l'autopsia sono state effettuate senza il permesso della famiglia e attraverso calcoli controversi la quantità di uranio rintracciata viene ritenuta troppo piccola perché sia da considerare la causa della morte del militare. Sul campo vengono trovate pallottole al cosiddetto uranio impoverito che analizzate risultano non essere di uranio impoverito ma formate da scorie radioattive. L'uranio lascia la sua firma ma i misteri aumentano e nessuno è colpevole. Come avrete notato dall'inizio di questa trasmissione noi abbiamo messo un aggettivo, il cosiddetto uranio impoverito, prima del termine uranio impoverito perché da come avete appena sentito risulta che non sia uranio impoverito o almeno in alcuni casi non risulta essere uranio impoverito ma uranio che è prodotto da scorie nucleari, quindi più radioattivo, molto più radioattivo. Vorrei confermare di questo dall'esperto della Commissione e consideriamolo anche il nostro esperto Massimo Zucchetti. Ma sì, a me dispiace sempre in questi casi dover dire io l'avevo detto, ho pubblicato diversi studi, diversi articoli, libri e in questi libri distinguevo sempre fra l'uranio impoverito cosiddetto pulito che è quello che viene utilizzato soltanto come risultato dell'arricchimento, come scarto dell'arricchimento dell'uranio e invece il cosiddetto uranio impoverito sporco che contiene appunto alcuni nuclei di radioattivi che fanno vedere come parte di questo uranio provenga dal riciclo di scorie radioattive, in particolare la presenza di uranio 236 che non si ritrova in natura e quindi è impossibile provenga dal semplice processo di arricchimento, una maggior presenza di uranio 234 e tracce di plutonio, nettunio ed altri elementi. Quindi dentro le ossa di questo povero militare si sono trovate delle tracce che fanno capire come l'uranio che viene utilizzato, che è stato utilizzato in questi scenari, sia un uranio che va definito come lei giustamente ha detto, impoverito fra virgolette, è un materiale radioattivo a tutti gli effetti, prima lezione di fisica, inalazione di materiali radioattivi provoca tumori e malformazioni nella progenie, non credo che su questo ci sia più molto da fare delle discussioni, dobbiamo soltanto fare delle verifiche nel caso di Quirra, delle quali eventualmente parlerò in un prossimo intervento. Io volevo sottolineare un fatto, io sono molto contento che ci siano dei parlamentari che si occupano di questo argomento, perché è un argomento molto spinoso e molto difficile e non è facilmente affrontabile. Vedo che ci stanno raggiungendo i nostri ospiti, benvenuto, benvenuto Domenico Leggero, si accomodi, scusate ma non è stato possibile aspettarvi prima d'ora, c'è anche se non sbaglio il suo avvocato dell'osservatorio, benvenuto anche a lei, si accomodi pure. Buonasera. Buonasera, si accomodi. Ciao. Stavo dicendo che sono molto contento che ci siano dei parlamentari che si occupano da tempo di questo argomento, perché è un argomento dove le conoscenze non sono facili, si mettono insieme dopo anni di lavoro attraverso uno studio, attraverso continuo contatto con gente che se ne occupa e volevo proprio chiedere ora al senatore Rizzi cosa ne pensa di questi due fatti, sono abbastanza complessi, primo la contaminazione di un militare francese che viene certificata, ma attenzione, non viene certificata la relazione di causalità tra la contaminazione e la morte, risulta contaminato ma non si riesce a dimostrare che la contaminazione abbia provocato la morte e credo che sia una cosa sulla quale bisogna ragionare ancora una volta, ci sono ostacoli, ancora una volta non si riesce a stabilire quella relazione che invece ha provocato tante patologie. E il secondo aspetto è l'esistenza di una pallottola che non è all'uranio impoverito, l'uranio impoverito dovrebbe essere un uranio naturale, trasformato in gas, centrifugato, non dovrebbe mai entrare in un reattore nucleare. Vorrei una vostra valutazione su queste cose che sono state raccontate da questa inchiesta e da questi fatti. Sicuramente rispondendo alle due domande, un fatto positivo e un fatto negativo. Il fatto positivo è che per la prima volta quantomeno è stata trovata la traccia dell'uranio su un militare deceduto e questo dà la ragione di tutto quello che tutti quanti abbiamo sempre sospettato e temuto che diverse forze armate abbiano utilizzato, se non utilizzino però sicuramente in passato lo hanno fatto, armamenti di questo genere, diciamo per così dire poco convenzionali. La cosa ulteriormente drammatica è che sono state trovate tracce non solo di 238 e 235 ma anche di uranio 236 che come abbiamo sentito dal professor Zucchetti non è presente in natura, quindi non è assolutamente in alcun modo pensabile che possa essere stato costruito il proiettile con una materia prima cosiddetta pura e questo ci dà ragione dell'importanza di chiamarlo il cosiddetto uranio impoverito e non l'uranio impoverito e la seconda domanda che invece ha una risposta drammatica è strettamente correlata a questo, vuol dire che in giro per il mondo c'è qualcuno che utilizza non solo gli armamenti nucleari ma addirittura gli scarti della produzione nucleare, non vorrei che tutta una serie di armamenti possano essere la scusa per contenere delle scorie che difficilmente possono essere stivate e oltretutto per andare a risparmiare ulteriormente sui costi di armamenti perché sappiamo benissimo i costi dell'uranio vero, dell'uranio impoverito, con le scorie prendiamo i classici due piccioni con una fava, ci costa poco, abbiamo meno roba da smaltire, tanto chi se ne frega, prima o poi le spareremo in situazioni belliche e come al solito la guerra poi dopo chiude tutti gli occhi e va bene qualsiasi cosa, però vorrei puntare veramente gli occhi sulla prima delle due situazioni, sul fatto che per la prima volta abbiamo avuto la documentazione scientifica che su un militare è stato trovato l'uranio, è la prima volta, non è in concentrazioni sufficienti per stabilire il nesso causale per la morte, però siamo sulla strada giusta, la procura di Lanusei ne riesumerà altri 20, se davvero ci sarà un nesso causale tra il cosiddetto uranio impoverito piuttosto che con qualche altra sostanza tossica, perché non dimentichiamo che non esiste solo l'uranio, a correlare davvero queste morti, benvenga, forse cominceremmo davvero a vedere uno spiraglio di luce su questo drammatico problema. La ringrazio Senatore, le immagini che avete visto poco fa erano le immagini di Ludovica Carie, che è il giovane militare francese deceduto, sul quale hanno rintracciato e certificato la contaminazione e bisogna rendere omaggio al padre, perché è stato lui, colui come tanti altri familiari che avete conosciuto in diverse trasmissioni, che ha portato avanti fino in fondo la battaglia per la verità sulla morte di suo figlio. Vorrevo chiedere, prima di passare a Domenico Ligero, volevo chiedere al Senatore Scanu un commento appunto su questo breve filmato che abbiamo appena fatto vedere. Allora, io credo che certe reticenze, certe false prudenze dietro le quali si nasconde tutto sommato una volontà di annacquamento, di indoramento della pillola, per usare un'espressione che si usava da ragazzi, debbano essere rimosse. Qua sta di fatto che o per ragioni attribuibili alle armi che vengono usate da quanti vengono da fuori per testare le loro armi, o per quelle miscele esplosive che si determinano quando certe armi vecchie, certe munizioni vecchie vengono fatte brillare, vengono distrutte, o perché si procede ad un'azione di interramento. Io, in tutta coscienza, non credo che non ci siano ampi lembi del territorio di Quirra interessati all'interramento di materiale che avrebbe dovuto essere smaltito diversamente. È da pochi anni che finalmente è emersa e maturata una sensibilità in questo senso, ma che sia stata fatta negli anni un'azione dissennata per, ad esempio, i rifiuti speciali. Sappiamo bene che purtroppo l'Italia è piena di rifiuti speciali, di rifiuti tossici. Non ci stiamo inventando niente. Allora, ci vuole rigore. Rigore assoluto, ancorché estraneo alla volontà di dimostrare per forza un teorema, rigore assoluto per stabilire che tipo di armi vengono usate, che tipo di munizioni sono state usate, se non è il cosiddetto uranio impoverito, che cosa è stato, per quale ragione le persone che vivono là intorno sono morte o di tumore al sistema linfatico o comunque di altre patologie che sono estraneo al tipo di mortalità che si registra nelle zone vicine. Ecco, il caso del soldato francese non vorrei che venisse cancellato soltanto perché burocraticamente si ritiene di non poter riconoscere una certa entità o quantità di intossicazione o di avvelenamento da questa sostanza. Sarebbe un pochino come, loro lo ricorderanno, quante volte in Italia si è potabilizzata l'acqua per decreto. Quando non c'erano altre soluzioni veniva fatto un decreto che diceva che comunque si tirava sull'asticella, anzi o meglio si abbassava l'asticella e quindi immediatamente per decreto l'acqua diventava potabile. Ecco, ci vuole rigore scientifico. La ringrazio. Arriviamo a lei, Domenico Leggero. Domenico Leggero lo spieghiamo al pubblico, ai telespettatori. È la persona che ci ha insegnato noi giornalisti tanti anni fa, parecchi anni fa, decine di anni fa, che cos'era il problema, la sindrome del Golfo, che cos'era la sindrome dei Balcani, cercando di farci conoscere tutte le famiglie, tutte le persone, tutte le vittime che diversamente poi non saremmo mai riusciti a conoscere. Quindi noi siamo debitori rispetto a lei di aver affrontato per primi questo argomento. Vorrei intanto da lei un po' il quadro della situazione attuale. Secondo lei, lei è da molto che segue tutta questa battaglia per la verità su questo argomento. Sicuramente sì. Sono stato consulente nella prima commissione che credo la commissione ha condotta, Paolo Franco, sia stata credo la migliore in termini operativi. Poi parte della commissione Menapace da cui fui allontanato perché uno dei problemi della commissione era quello di avere i numeri, i nominativi. Allora io riuscì a procurare un elenco di nominativi che era un elenco ufficiale della difesa. Lo portai sia all'opinione pubblica, perché è la garanzia dell'informazione, e anche in commissione. Fu ritenuto che questo atteggiamento non era corretto, ma credo era così, come dire, un appiglio a cui prendersi e fui allontanato dalla commissione, della quale non ho più fatto parte, nemmeno in quella attuale. Io volevo però evidenziare delle informazioni. Un discorso che faceva il senatore Scano ponendosi delle domande con quello che succede a Quirra. La risposta ce l'ha sotto mano, davanti agli occhi, perché se da una parte lui è preparatissimo e conosce il contesto di salto di Quirra, è anche vero che fa parte di una commissione di inchiesta che indaga sui militari. Allora, se potrebbe far caso a un aspetto fondamentale, che le patologie di salto di Quirra sono praticamente simili a quelle dei militari. Però in commissione si dice, guardate, certamente sono i vaccini, non è l'uranio, l'uranio addirittura sotto certi aspetti fa anche bene, come viene spiegato. No, questo viene detto in commissione, l'uranio non è colpevole, questi sono atti della commissione. Manca in questa commissione, ma questo lo dico certamente con spirito collaborativo all'onorevole Scano, manca l'esperto di armi. Vede, si è detto che io non avevo un contesto nella commissione perché non avevo alcuna specialità. Io sono tra i 20 ispettori del CFE, attuatore del trattato di Dayton, conoscitore di armamenti. In questo momento nella commissione c'è un balistico che non è una specialità militare e non ha una capacità di identificazione dei proiettili. Io andavo a verificare il munizionamento nei Balcani prima della guerra e facevo la distinzione tra munizionamento... Ma non facciamo un caso privato perché sennò sarebbe... No, 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 volevo arrivare al dunque, quindi dovremmo andare ad identificare gli aspetti comuni in contesti diversi. Qui abbiamo sul tavolo tutto, abbiamo Salto di Quirra dove si ammalano i pastori ed il bestiame che non è stato vaccinato, che non fumava e che non beveva e abbiamo i militari che si ammalano delle stesse patologie, però viene detto attenzione perché questi si vaccinano, fumano e bevono. Ecco, se noi riusciamo a staccarci da questi interessi che possono esserci di parte per la Sardegna o politico istituzionale per la Commissione, riusciamo ad avere un quadro più chiaro e andare a vedere anche quello che succede, attenzione Libia, attenzione Afghanistan, attenzione Iraq, ecco quindi andiamo a verificare. Stiamo ricadendo negli stessi errori del passato, continuiamo a usare queste armi, li usiamo dall'altro lato del Mediterraneo, proponendoci come liberatori o comunque portatori della democrazia e se usiamo queste armi sarà una democrazia che sarà legata a delle malattie che sono le stesse di cui abbiamo parlato fino adesso, che colpiranno non gli oppositori della libertà, ma la gente comune. Volevo dal Professor Zucchetti una opinione sul fatto francese. Una battuta che faccio spesso e che ci abbiamo messo 40 anni per far accettare che l'asbesto, l'amianto fosse cancerogeno, adesso stiamo con molta fatica ottenendo lo stesso risultato per l'uranio, cosa che mi ha stupito che ci siano voluti così molti anni. In particolare i dati che lei ha presentato sul militare francese sono molto importanti, faccio presente come un esame della letteratura cosiddetta grigia, cioè pubblicata da scienziati iracheni o anche della letteratura internazionale, faccio vedere comunque altri casi in cui è evidente la contaminazione da uranio impoverito, fra virgolette, nelle ossa e nel corpo di questi poveri militari. Mi riallaccio ad una cosa giustissima che ha detto il maresciallo leggero, le bestie, gli agnelli non vengono vaccinati, gli agnelli non puliscono le munizioni e vorrei qui citare i risultati molto recenti, recentissimi del gruppo di lavoro a cui appartengo che riguardano le analisi fatte a un agnello teratologico rinvenuto nella cittadina di Scalaplano. Abbiamo provveduto all'analisi delle ossa di questo agnello teratologico, di questo agnello malformato e per controllo anche agnelli malformati provenienti da zone dove sicuramente l'uranio non c'è e abbiamo trovato l'evidenza della presenza all'interno di queste ossa di uranio e non solo, di un rapporto isotopico fra uranio 234 e uranio 238 non compatibile con la presenza di uranio naturale. Questo non in Iraq, questo non in Libia, questo ad Scalaplano. Allora davanti a questi risultati che sono ancora in corso di effettuazione, ma che tuttavia verranno pubblicati fra breve, io gradirei avere una spiegazione. Abbiamo le prove che c'è l'uranio, come diceva giustamente il senatore Rizzi ci sono altre cause di inquinamento, ci sono inquinamento di tipo chimico, questi abitanti vengono tranquillamente sorvolati da questi missili che emettono chissà quali sostanze, ci sono i campi elettromagnetici, vediamo finalmente sia con la Commissione che con l'ottimazione della Procura di venire a capo delle cause ed avere dei dati precisi che ci sono, sono ottenibili. Volevo dall'Avvocato Tartaglia brevemente un quadro di cosa sta cambiando, voi eravate riusciti a in qualche modo garantire un indinizio su un concetto di causalità particolare, sembra che le cose siano cambiate adesso, lei può darmi brevemente il quadro? Sì brevemente, più che di indennizi noi siamo stati costretti, io per conto dei miei assistiti siamo stati costretti ad agire in via risarcitoria e ad oggi delle varie cause ben quattro sono andate a sentenza, le ho vinte tutte e quattro e vari giudici hanno detto che l'uranio impoverito la causa di queste patologie tumorali che hanno condotto alla morte dei militari, non solo questo, sulla base dei vari dati che ho fornito, copiosa documentazione a un giudice è sufficiente, io questo lo vorrei dire, ho ascoltato i ragionamenti, devo dire assai ragionevoli che ho apprezzato dei vari senatori, però io sono un po' meno ragionevole su questo argomento, faccio delle ipotesi un po' più nette, perché dobbiamo valutare alcuni aspetti, perché il Ministero della Difesa ha negato a Borigine che era stato utilizzato uranio impoverito, perché gli americani ci avevano informato che si provocavano dal contatto queste patologie tumorali, perché gli americani ci hanno detto che l'esplosione di proiettili dell'uranio impoverito provocano nanoparticelle che se ingerite o inalate provocano tumori, perché abbiamo trovato queste nanoparticelle all'interno proprio delle cellule ammalate, dei militari? Questo è sufficiente per un giudice per dire, tu amministrazione non dai la prova che queste nanoparticelle le ha potute ingerire o inalare da qualche altra parte, perché non ha vissuto con la testa in un alto forno il militare deceduto, ma è stato in zone bombardate o in poligoni di tiro, quindi hai fornito la prova, tu attore, del più probabile che non. Questo concetto non vuole essere colto, hanno ritenuto evidentemente dopo queste prime quattro sentenze di condanna che utilizzando espressioni del tipo non si può affermare, ma neppure escludere con certezza, si evitasse il dogma della probabilità. Non sono sufficienti gli espedienti logici o mettere in dubbio, guarda caso, subito dopo delle sentenze che sono state ottenute, questo nesso di causalità affermato dai tribunali, metterle in dubbio e eliminare gli indennizi per le vittime dell'uranio impoverito, in modo tale, la tua strada, ipotizzando in questo modo che la strada è più tortuosa per chi vuole ottenere giustizia. Bene, io capisco che un argomento di questo genere merita molto più spazio di quanto oggi ne abbiamo dedicato, che è comunque molto per la televisione, se soltanto usassimo più spesso l'aggettivo cosiddetto urani impoverito invece che urani impoverito sarebbe già un grande obiettivo raggiunto. Ringrazio di cuore tutti i partecipanti che hanno dato il loro apporto, grazie a tutti, arrivederci alla prossima puntata.